a tutti e ben ritrovati nella mia cucina oggi torta con banane allora guardate che belle banane tre banane belle mature 250 grammi di farina vi do già la ricetta però ve la scrivo nell'info box e anche nel primo commento in evidenza 4 uova 30 grammi di cacao amaro perché la faremo anche al cioccolato una bustina di lievito per dolci 80 grammi di olio di oliva oppure olio di semi e adesso veniamo a come si fa lo zucchero 180 grammi di zucchero con questa qui e adesso andiamo 80 grammi di olio 30 grammi di cacao amaro 250 grammi di farina una bustina di lievito per dolci e l'altra banana la mettiamo sopra e l'altra banana la mettiamo sopra e la metto in forno a 180 gradi per 30 35 minuti prima di uscirla facciamo la prova stecchino lo so la decorazione non è una delle migliori ma io sono pessima nel decorare voi se ci riuscite fatelo meglio ciao se volete potete anche non mettere lo zucchero a velo e lasciarla così ma io andrò a metterlo giusto un po' ed ecco la mia torta alle banane con cacao una meraviglia un po' 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 un po'